Il motivo del suo viaggio? La riedizione del mio primo libro. È una scrittrice? Sì e no. Lei lavora per il mio editore. Sono io il suo editore. Mi inchino male, è così? È un grande onore per me conoscerla. Ho riflettuto molto prima di accettare l'indito. Mi sembra quasi irreale essere qui. Chi è lei? I fantasmi vivono tutti intorno a noi. Sei davvero tu, Antoine? Sidonie. Perché sei tornato? Non sono tornato. Non me ne sono mai andato, Sidonie. La scrittura è ciò che resta quando non abbiamo più nient'altro. Non so che mi succede. Non pianola, prego, Sidonie-san. In Giappone teniamo i sentimenti per noi. Avevo paura, credo, dell'ignoto. Sono felice di conoscerla. Lo sono anche io. Allora, sorridete. Allora, sorridete. Allora, sorridete. Grazie a tutti. Grazie a tutti